Ed ora per la prossima presentazione una voce speciale. Figli di Roan, fratelli miei, popolo di Roma, verrà il giorno della sconfitta. Ma non è questo il giorno. Oggi combattiamo. Sono qui per presentare una donna straordinaria, senza nulla togliere a tutta la coalizione ovviamente. Una donna, una madre, la prima presidente donna di un partito italiano e la prima presidente donna di un partito europeo. Signore e signori, verrà il giorno della sconfitta. Ma non è questo il giorno. Signori, Giorgia Meloni.